Per la pasta, nei due minuti che non c'è stato il video, io ho finito di girare ancora un po' la pasta, come vedete che è una risciata, ho pensato la farina residua che la bisogna tracatina ovviamente, ho tirato un po' qui, e adesso, andiamo a farvi la pasta, cosa ha poter andare, è vero, 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 è vero. e in tutto pensiamo alla fine per vedere quanto è arrivata per sapere quanto l'abbiamo consumata 273 e 1188, quindi sono 2211 un po' buttata per terra, un po' rimasta da una lente d'occhio adesso vedo questa, la sette in due la sette in due ci facciamo l'intervento della dell'optenevolità e cioè il genero dei pannelli oppure il genero della massa ora lo facciamo con il dividimento in due la massa e mettere in una delle due ok 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 e poi andremo avanti durata nell'impattatore è durata 22 minuti per la processione comprendo anche lo staglio per la divisione lunghe e direi che siamo perfettamente nel disciplinare e avanti vediamo che succede grazie 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 grazie